Ho avuto possibilità di constatare come stia migliorando la situazione, i livelli di compatibilità dentro questo istituto sono migliorati, gli spazi sono adeguati a quello che prescrivono le leggi e resta un problema gravissimo, che è quello della inadeguatezza dell'organico perché si chiede agli operatori di fare il triplo del lavoro in una condizione lavorativa che è assolutamente inadeguata. Le condizioni del carcere di Bari sono migliori, dunque lo saranno ancora di più quando tra qualche mese verrà aperta un'altra sezione femminile. Il senatore forzista D'Ambrosio Lettieri lo ha visitato anche per fare il punto sulla situazione dell'assistenza sanitaria all'interno dei penitenziari. Bari è un centro diagnostico-terapeutico tra i più attrezzati in Italia, ma i passi avanti da fare sono ancora molti per questo D'Ambrosio Lettieri auspica che del tavolo tecnico regionale faccia parte anche un rappresentante dei medici penitenziari. È una governance del sistema che manca ancora e ci dobbiamo sforzare di fare sostanziali passi in avanti attraverso una maggiore sensibilizzazione del servizio sanitario anche in ambito locale. Grazie per la visione!